ciao Anna ciao Carla ci risiamo Carla ci risiamo va bene ciao complimenti allora dunque dopo queste quattro relazioni così così belle io direi che forse c'è qualcuno che vuole fare un commento una domanda anche una riflessione anche una riflessione non c'è io approfitto di questo momento di confusione diciamo di abbandono per per spiegare un po' il senso di questa di questa iniziativa di questo colloquio di questo colloquio Dante si sa che è studiato è studiato tantissimo è crescente l'attualità di Dante aumenta l'interesse invece di diminuire con il tempo aumenta ma Dante noi lo possiamo studiare da due punti di vista da due punti di vista o lo studiamo dal punto di vista diciamo del passato come interprete del 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 passato come grande interprete del passato della tradizione antica erede geniale della tradizione antica e medievale oppure lo consideriamo dal punto di vista del futuro cioè il debito che ha la modernità nei confronti di Dante cioè questi gli elementi dell'opera di Dante che hanno aperto la strada il cammino della della modernità Dante all'incrocio no fra diciamo l'antico e il moderno e sono molti gli elementi gli elementi di Dante che suscettibili di essere studiati dal punto di vista del del moderno faccio queste osservazioni perché questo gruppo che abbiamo formato il il seminario di studi di studi il seminario internazionale di studi danteschi è statutariamente dedicato allo studio della modernità di Dante in due sensi diciamo gli scrittori o in generale uomini di cultura che si sono rifatti a Dante dopo di lui e anche nell'altro senso gli elementi di modernità che appartengono a Dante il primo convegno del seminario l'anno scorso fu appunto sull'irradiazione di Dante nella letteratura moderna e invece questo convegno affronta la modernità in Dante quali sono gli elementi dell'opera dantesca che sono suscettibili di essere letti in una chiave moderna nostra insomma in un senso che ci riguarda sono tanti gli aspetti dell'opera dantesca che aprono il cammino della modernità che ne so la filosofia la grande riflessione sulla nobiltà di Dante è un tema di una assoluta originalità nel panorama medievale e che io direi io direi che addirittura forse prima di Dante il soggetto non esiste prima di Dante esiste l'anima il soggetto esiste a partire da Dante per esempio questa è una piccola provocazione ma poi sul piano politico l'idea laica del potere è Dante che ha pensato per la prima volta che la sovranità non ha niente a che vedere con la religione con la chiesa ed è un tema credo ancora oggi attualissimo ancora oggi attualissimo le interferenze fra la religione e lo stato fanno ancora tanti danni queste interferenze Dante per primo disse attenzione che l'umanità si distrugge se non separiamo rigorosamente lo stato della chiesa ecco e il linguaggio e chi è che ha riflettuto sul linguaggio in modo più geniale di Dante e quando dico nel modo più geniale non penso mica solo al medioevo io dico ancora oggi il pensiero linguistico di Dante diciamo ricco di elementi di elementi degni e meritevoli di essere approfonditi studiati pieno di suggerimenti e poi il tema che ci riguarda e cioè le donne il titolo è la donna alle donne con questa doppia diciamo indicazione io intendevo riferirmi ai due aspetti del femminile che noi possiamo studiare nell'opera di Dante la donna in quanto genere quindi come concetto astratto e la donna in quanto personaggio sono due aspetti diversi ma complementari che appunto diciamo stiamo affrontando e mi fa molto piacere che siano non solo belle ma anche tante gli interventi che sono stati proposti e che ascolteremo ecco quindi va bene abbiamo chiuso questa prima sessione vedo che diciamo si è un po' tranquillizzata la platea sono riuscito a catturare l'attenzione del pubblico quindi se c'è qualche domanda qualche cosa prego prego scusa scusa forse è meglio se vieni qua così ti sentono anche anche i nostri ovviamente scusate scusate l'invito vale anche per voi che siete lontani logicamente voi però mi dovete avvertire perché io se no non vedo fatemi un segno un urlo voglio parlare io lo capisco prego prego natascia mi dice che vuole intervenire no prego io avevo una domanda per il professor Finzi in parte gliel'ho già anticipata chiacchierando nella pausa e la domanda è se questa lo ha insistito su questa assolutizzazione del relativo sulla capacità di Dante di prendere le distanze anche dalla posizione tomista gli volevo chiedere se lui pensa che si possa parlare di un averroismo cristiano di Dante di una vicinanza di Dante all'averroismo o no già mi aveva anticipato che non ha una grande opinione degli studi di Maria Corti ma adesso lasciando stare la felicità mentale è un po' questa domanda in generale se non essere tomista può significare qualche simpatia per l'averroismo è una domanda difficile e io darò una risposta invece direi di no direi di no però la domanda è difficile perché io non so che cosa fosse l'averroismo per Dante noi siamo abbiamo uno schermo per noi averroismo vuol dire tutta una serie di brutte cose che ne so di eresie per Dante non credo che fosse così quindi lui cita tranquillamente averroè una monarchia quando dice e beh lo dice anche averroè cioè per cui non sapendo bene che cosa sia veroismo per Dante non sapendo io colpa mia io direi di no non ci vedo niente di particolarmente non saprei ecco approfitto invece per dire che certamente e questo mi riferisco ai discorsi che faceva alla modernità che faceva Lello Dante che io sappia troncando questa continua fuga verso la prima causa per cui se non si conosce la prima causa di fatto non si conosce niente questo deprime la scienza umana in una maniera pazzesca perché la mette proprio sotto la tutela della fede della religione rivendicando la compiutezza del sapere umano in queste forme che ogni atto e ogni conquista di sapere è un sapere perfetto apre la via alla scienza della natura è in una maniera straordinaria efficace semplice se vogliamo anche è lui che lo dice per la prima volta secondo strappa il sapere da da una sfera elitaria per cui solo ecco lì forse la connessione con la vero è solo chi riesce a congiungersi con i pochi eletti che riescono a mettersi in contatto con l'intelletto possibile eccetera eccetera sono i detentori del sapere tutti gli altri per carità perché la visione veroistica è una visione di classe in una maniera assolutamente demenziale assurda totale la posizione di dante è contraria quando dice la nostra felicità è il sapere nel convivio e voglio mettere il sapere a disposizione di tutti è una parte delle cose che dovevo dire e che non ho detto c'è come programma un vero e proprio allargamento dell'umanità e può lui dire alla gente dovete sapere senza nello stesso tempo garantirgli che vale la pena farlo perché avrebbero così un po' di felicità non può mica dire se no rimaniamo alla vecchia massima di Salomone che aumenta il sapere aumenta il dolore cioè vi infliggo pene ulteriori il sapere non è una pena ma è una felicità deve dirlo nel momento che vuole che tutti partecipino al sapere deve promettere un po' di felicità sa cosa promette della sofferenza non sarebbe tanto molto furbo molto intelligente voglio dire quindi anche questo è un elemento estremamente importante del pensiero di Dante questo allargamento dell'università e questo promettere ogni a perfezione viene quindi voi potete tutti per la vostra piccola o grande parte che sia avere la vostra parte la vostra parte di felicità attraverso il sapere questa è una posizione anti-elitaria veramente formidabile il sapere come riscatto e conquista di una possibile felicità per tutti in tendenza non è mica neanche questa è una cosa da poco e questo non è certamente avvero vista assolutamente in questo non lo è nella maniera più totale poi se ripeto ci sono tante altre cose che si potrebbero dire ma questo del convivio della promessa di felicità attraverso il sapere è di nuovo un elemento dirompente estremamente moderno estremamente anche attuale il riscatto che passa attraverso dell'uomo che passa attraverso il sapere e che inevitabilmente si traduce come dire nella sottorizzazione del relativo perché poi a questo mondo è effettivamente tutto relativo quindi va accettato e però va valorizzato per quello che è lì il discorso sulle donne sul piccarda e costanza potrebbe di nuovo entrarci entrarci molto perché diventano un po' l'emblema della completezza e nello stesso tempo della non perfetta risoluzione della condizione umana in quanto tale e l'uomo in quanto tale è irrealizzato ma nello stesso tempo si può realizzare e deve realizzarsi anche se resta in parte irrealizzato merita il paradiso lo stesso e due donne lo dimostrano quindi tornando alla domanda non direi che sia specificamente aferroista sinceramente grazie in che misura vede il platonismo nel paradiso di Dante una domanda che rivolgono al professor Fensi dovrebbe essere un po' tecnici e considerare bene Calcidi o il Timeo il Timeo eccetera ma sono molti ma sono elementi anche abbastanza comuni insomma alla cultura del tempo qualcosa che noi nel linguaggio comune definiamo come platonico no tutto quello che ha a che fare con la trascendenza noi tendiamo un pochino a riferirlo tecnicamente sinceramente sinceramente non lo so è tutto appunto nella tradizione del Timeo la dimostrazione dell'immortalità dell'anima però non lo so sinceramente bisognerebbe fare forse un discorso un po' più preciso io non sono in grado in questo momento di dirlo una piccola gloss a questi interventi di Enrico il quale ci ha spiegato che Dante sicuramente non è tomista con ogni probabilità non è allerruista e certamente non è platonico quindi indirettamente ci sta dicendo la specificità la singolarità dell'opera di Dante del pensiero e della poesia un piccolo particolare che chi è platonico e dichiara di esserlo è Petrarca e infatti si contrapone a Dante nell'elenco dei sapienti per Dante Aristotele è maestro di coloro che sanno poi vengono gli altri e per Petrarca nel trionfo prima è Platone e poi vengono gli altri e c'è una contraposizione precisa quindi se si parla di platonismo bisogna fare un salto in avanti e passare a Petrarca la grande operazione di Petrarca è introdurre che noi non conosceva Platone conosceva pochissimo però ha intuito che era il momento di Platone che non è chiaramente lo sommato Dante Aristotelico senza dubbio molte grazie Enrico grazie altre suggestioni